E' pronto Daniele sulla linea di partenza? Via. Daniele Bruno. Eccolo, eccolo. Dai che ora non li deve prendere. Bravo Daniele. Bravo, bravo, dai, dai. No! Dai! Ci ha fatto un birillo? No! Ma io vi ammazzate, Daniele. Sì. E' bello. E ora che passa? Va te lì il pico però. E tu? Eh, non è ma sono due. Ah, una. E ora ora? Ora. E ora che arriva a conto. E ora che torna. E non c'è più. E ora che fa l'elettromazza che torna. Eh, facciamogli fare questo qua tranquillamente. Sì, l'altro già non ti piace. Dai, è vero un po' è stato bravo. Dai, sì, sì. Forza, Daniele! Tu, 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 tu. Dai, ti ha fatto un po' di messa. Dai! Hai detto di incontrare tu pure? Cioè, non ti ho detto vai. No, scusami. Un minuto e cinquanta e due. No, uno e otto. No, uno e otto. No, uno e otto.